We're going on a trip in our favorite rocket ship Filming through the sky Little lines that I Climb a boat Ciao a tutti ragazzi per questo nuovo video sono Amber di Dragonsteak Oggi ragazzi è un video particolarmente breve perchè voglio chiedervi due consigli Ho intenzione ragazzuoli di iniziare due nuovi giochi qui sul canale sempre mobile, sempre di strategia simile a Clash of Clans Attenzione però non sto dicendo che a Clash of Clans non ci giocherò più perchè a Clash of Clans ci giocherò sempre e comunque ma questi due nuovi giochi saranno quindi alternati tra Clash of Clans eccetera eccetera dico due ma potrebbe anche essere solamente uno massimo comunque due nuovi giochi quindi alla settimana pubblicherò un video di Clash of Clans, un video di un altro gioco ancora Clash of Clans eccetera eccetera maggiormente comunque sarà Clash of Clans e dato che tra un po' ci sarà il grande aggiornamento che stiamo aspettando tutti quanti farò comunque la maggior parte Clash of Clans nella prossima settimana è importante ragazzi che tutti voi che state guardando questo video commentiate qui sotto quindi ricapitolando scrivete qui sotto nei commenti due giochi mobile di strategia simili a Clash of Clans quindi giocheremo ragazzi tutti assieme qui su YouTube partendo dalle fondamenta del gioco partendo quindi dall'inizio costruiremo quindi villaggio assieme eccetera eccetera farò quindi una vera e propria serie qui sul canale dico che è importante che tutti voi commentiate perchè guarderò tutti i commenti anche se si tratterà di più pagine leggerò tutti i vostri commenti perchè per me è importante fare un confronto il maggior numero di commenti che avrà gli stessi giochi consigliati allora inizierò proprio in quei giochi o in quel gioco vedremo comunque come andrà e con questo è tutto grazie per il vostro supporto e noi ci vediamo quindi molto presto con il prossimo video ciao ragazzi grazie grazie grazie